GORIZIA Figli piccoli, genitori anziani, esigenze professionali. GORIZIA GORIZIA è caratterizzata da un'elevata presenza di servizi direttamente rivolti alla persona e alla famiglia, che ti aiuta a conciliare i tempi di cura e lavoro. Servizi per l'infanzia, per i bambini in età scolastica, per le famiglie, per la terza età e per i più fragili. Tutti gli interventi sono concepiti e organizzati per creare una rete integrata di sostegno in grado di migliorare la qualità della vita, tua e di chi ti è vicino. GORIZIA Un centro bambini e genitori, tre nidi di infanzia comunali, due nidi di infanzia convenzionati e due scuole dell'infanzia comunali per i più piccoli. Servizio di ristorazione garantito da cuochi comunali, dopo scuola, spazi per la socializzazione e attività estive per bambini nelle fasce 3-6 e 6-12 anni. Attività di invecchiamento attivo Un'accogliente casa di riposo comunale e una struttura residenziale convenzionata per persone non autosufficienti. Uno sportello per gli amministratori di sostegno e un fondo per aiutare le famiglie nelle spese di assistenza agli anziani. Fornitura di pasti, assistenza domiciliare e telesoccorso per gli over 65 con particolari fragilità. Una città che è orientata a prendersi cura dei suoi cittadini. Una città che sostiene le pari opportunità e l'accesso delle donne al mondo del lavoro. Una città che genera le condizioni per vivere in modo più facile e piacevole. Gorizia prossima. Vicini al tuo presente, prossimi al tuo futuro. Grazie a tutti.